ecco giulio di me oggi abbiamo l'opportunità di seguire attraverso questa video analisi l'organizzamento di gabrile camilli e giulio di me siamo al ceronello dove giulio di me ora ha aperto la sua accademia vai 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 via 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 vai e vediamo con i piedi via bene vediamo con i piedi via ok lavoro eh forza buonissimo forza vai vittime vai vai bravo uomo m uomo fuori dai uomo 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 il Vai, cattivo e riattivo con i piedi, vai, sì, vai, vai, vieni, sì, vai, vieni, vai, bravo col destino, scende in là, vai, 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 vai Veloce, respira adesso, quando stai sotto devi andare in giro, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Veloce, non ti aprile, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. La nuova la scelta. Una passata. Due, vai! Nocchi! Vai! Vedi, vai! Deloro! Una passata. Vai! Deloro! Un, due! Vai! Vedi, vai! Vedi! Vedi! Vai! Vedi, vai! Vedi, vai! Vedi! 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 Grazie a tutti